Paura ieri sera sulla strada che collega Gioi Cilento alla sua unica frazione, Cardile. Un 19enne del posto, Giovanni Scelza, stava percorrendo la provinciale 80 recandosi dalla sua fidanzata quando all'improvviso un albero è caduto sulla sua auto una Mini Cooper rossa. Il fusto, per cause ancora da accertare, si è sradicato abbattendosi sulla vettura di Scelza. Quest'ultimo è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Fortunatamente per lui solo lievi ferite e qualche piccolo trauma, ma tanta rabbia per l'incredibile vicenda. Secondo quanto riferito da alcune persone, l'albero era già pericolante. Al pronto soccorso del San Luca il 19enne è stato prontamente assistito dai sanitari e sottoposto agli accertamenti del caso. Tutto si è risolto solo con qualche graffio. Non riesce però a trattenere tutto il proprio disappunto la madre di Giovanni Scelza. Mio figlio, dice, ha rischiato la vita a causa del mancato controllo e della mancata manutenzione da parte di chi deve garantire la sicurezza sulle strade. Un incidente che ha destato sconcerto ed incredulità tra la gente del posto.